Zu e la consegna Oh, non ci si muove più! Questo traffico è terribile! Non arriveremo mai per la consegna dell'ordine! Chiederò al nonno di andare al negozio nell'attesa! Ho lasciato il telefono a casa! Usa il mio e nella borsetta! Fai il bravo, Zack! Ci vediamo più tardi! Ciao, papà! Pronto? Oh, Xavier, dimmi! Oh, certo! Sono con Zu e Zack, ma possiamo andarci tutti? Ciao! Xavier e Zelda sono imbottigliati nel traffico! Dobbiamo andare al loro negozio perché deve arrivare un grosso ordine! Sì! Oh, e così dimenticavo le chiavi del negozio! Nonno, se arrivano molti scatoloni, riusciremo a metterli in negozio! Sono sicuro che il signore delle consegne ci aiuterà a portarli dentro! Sì, di solito lo fanno! Anch'io aiuto sempre mio papà a scaricare! È faticoso se ci sono tanti scatoloni! Sì, ho deciso! Da grande farò il corriere e guiderò un grande furgone! Che cosa ne pensi, Puck? Ed eccoci arrivati! Per fortuna il furgone delle consegne non c'è ancora! Già, potete giocare in negozio! Ma cercate di stare attenti perché non dobbiamo rompere nulla! Va bene, nonno! Su, dove ti sei nascosto? Prego! Piano, altrimenti non sento il furgone delle consegne! Ma guarda che bel computer! Interessante! Avete sentito? C'è la lista degli articoli in vendita nel negozio! Saranno molti di più quando il corriere sarà arrivato! Io credo che se ne stia andando! Corro! Aspetti! Si fermi! Zack! Oh, no! Non riesco ad aprire! Quello era il corriere! Torni indietro! Se n'è andato! Non credo che da grande riuscirò ad essere un bravo corriere! Abbiamo mancato la consegna! Non è vero! Ecco gli scatoloni! Saviè non mentiva dicendo che era un grosso ordine! E ora che facciamo? Direi di aprire gli scatoloni! Oh! Come faccio con il mio papà? Sì! Poi esponiamo gli oggetti in ordine! Ottima idea, Sue! Guarda, dei pennelli! Ce ne sono tantissimi! Li metteremo su questa base! Giusto! Mettiamo tutti i pennelli qui! Oh! Che cosa ci sarà in questo? Apriamolo! Guarda quanti pennarelli colorati e matite! Ci sono anche dei righelli! Oh, sì! Non ci stanno tutti là sopra! Ecco! Così va meglio! Visto che scatolone enorme, Sue? Già! Potrebbe starci dentro di tutto! Persino un elefante! Oh! Lo zio vende questa roba! No! Non lo sapevo! Forse potremmo metterli un po' in vetrina per abbellirla e un po' qui in negozio! È un'idea grandiosa, nonno! Ma quello è il nonno di Sue! Che sta facendo alla vetrina del negozio? Sta cercando di appendere qualcosa! E sembra piuttosto creativo! Guarda! Con lui ci sono anche Zack e Sue! Andiamo a vedere che combinano! I primi clienti di oggi! Ciao, Sue! Ciao! Che cosa state facendo? Stiamo aiutando mia zia Zelda e mio zio Xavier! Siamo venuti perché è arrivato un grosso ordine! Oh, vedo! Come sono carini! Sì, li hanno appena consegnati! Perfetto! È quello che mi serve per il mio nuovo quadro! Di solito li compro dal signor Zoe! Io posso prendere questo? Ma certo! Li compro entrambi! Ecco i soldi, Sue! Oh, grazie mille, Sue! Vi faccio un pacchetto! Che gentile! Grazie! Oh, è troppo bello per aprirlo! Ci vediamo! Ciao! 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 Ehi, salve a tutti! È una bella sorpresa vedervi qui! Oh, salve signora Zolli! Oggi siamo impegnati ad aiutare Zelda e Xavier! Beh, sono contenta di vedervi! Il signor Zoe è chiuso e mi serve un tubo di plastica per il lavandino che perde! È fortunata, signora Zolli! Ce li hanno appena consegnati! Oh, è molto grazioso, Sue! Da grande farò l'impacchettatore di regali! Non voglio più fare il corriere! Ecco qua! Siamo a posto così, signora Zolli! D'accordo! Vado subito a riparare il mio lavandino! A presto! Arrivederci! Arrivederci! Siete stati bravissimi voi due! Credo che Zelda e Xavier non potranno che essere soddisfatti del vostro impegno! Sì, nonno! E abbiamo anche venduto degli articoli! Ciao a tutti! Oh, che giornata faticosa! È andato tutto bene con la consegna? Oh, sì, zia Zelda! Come vedi abbiamo esposto i nuovi articoli! Eh? Ma questi non li abbiamo ordinati! No? Strano! Eppure erano nella consegna! Beh, io... Io... Non so! Già! Tutto ciò è curioso! Credo che il mio papà voglia che torni a casa per la merenda! Certo, ha detto così, Zack! Xavier, accompagno Zack a casa! Il padre l'aspetta! Sì, capisco! Mentre tu sei via, noi cerchiamo di capire che cos'è successo! Torno subito! A quanto pare hai bisogno di un po' d'aiuto, Zoe! Oh, salve! Sì, che sciocco! Ho dimenticato che oggi avevo la consegna di un ordine! Ti aiuteremo a svuotare gli scatoloni! Ma quelli non sono miei! Non ho ordinato quei cuscini! E non ho richiesto nemmeno quelle tovagliette! Chissà cosa può essere successo! Credo che il corriere abbia scambiato gli ordini! Sue ha ragione! È stato soltanto un errore! Sistemeremo tutto facilmente! Venite con me! Ed ecco qua i soldi per quello che Sue e il nonno hanno venduto oggi! Grazie! Mi auguro che il corriere scambi di nuovo gli ordini! Ho venduto delle cose anche se non ero presente! Bene, mettiamo gli scatoloni sulla mia auto! Così, dopo avervi accompagnato a casa, vi darò una mano a scaricare! Bravo! Mi sembra una buona idea! E mentre voi fate questo, io e te, Sue, andremo a fare l'ultima consegna di oggi! È venuto il momento di consegnare noi stessi a casa! La paletta da vigile di Sue Che giornata faticosa, Sue! Davvero molto faticosa, signora Zolly! Ciao, Sue! Ciao! Stiamo andando al parco! Vuoi venire con noi, Sue? Non posso! Devo aiutare la nonna a fare la spesa! D'accordo! Ci vediamo allora! Elsie, fermati! Aspetta il segnale della signora Zolly! Scusa, mamma! Scusi, signora Zolly! Bisogna fare le cose correttamente, dico bene? Grazie! Grazie, signora Zolly! Divertitevi al parco! Non potrei lavorare senza la mia paletta da vigile! È un'invenzione geniale! Arrivederci, signor Zolly! Andiamo, Sue? Nonna! Posso avere anch'io una paletta? E che cosa ne faresti, caro? Vorrei aiutare le persone, come fa la signora Zolly! Vedrai che il nonno te ne farà una tutta tua! Mi passi un altro chiodo, Sue, per favore? La signora Zolly dice che non potrebbe lavorare senza la sua paletta! Allora devo impegnarmi perché anche la tua sia all'altezza! Esercitiamoci un po' con le segnalazioni! Questo è lo stop! Questo segnale, invece, è per quando il traffico può passare! Ho finito! Ecco a te, giovane vigile! Fantastico! Grazie, nonno! Forza, Poc! Andiamo a trovare Elsie! Molto bene, Elsie! Questa è la città di Sue! Eccomi, arrivo con la mia macchina! Brum, 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 brum! Stop! Iiii! Via libera, puoi attraversare, Poc! Bene, puoi andare, Elsie! Mi diverte tantissimo fare il vigile! Sue, il pranzo è pronto? Anch'io devo andare! A dopo, Elsie! Vado ad aiutare i miei ad arrivare salvi a tavola! Stop, bisnonnina! Perché, tesoro? Qualcosa non va? No! Guardo se non passa nessun altro! Puoi andare senza pericoli in sala da pranzo! Grazie, tesoro! Oh, scusa! Scusa, non ti avevo vista! Stop, nonno! Vai, bisnonnina! Prego, dopo di te! Grazie, nonno! Vai pure, nonno! Grazie, Sue! Stop, mamma! Vai, nonno! Sto andando! Sue, devo mettere questo cibo in tavola, è caldo! Vai, mamma! Vai, cibo! Oh, no! Mamma, papà, stop! Oh, che disastro! Sue! Scusate! Non preoccuparti, Sue, è stato un incidente! Perlomeno non è caduta tutta la cena! La verità è che non sono un bravo vigile! Non devi arrenderti così, Sue! Hai solo bisogno di esercitarti un po'! Possibilmente in un luogo spazioso! Oh, al parchetto, per esempio! Ho un'idea! Perché non andiamo in spiaggia domani? È vero, c'è tantissimo spazio laggiù! Sì! Salve, signora Solly! Sto andando in spiaggia ad esercitarmi come vigile! È un'idea magnifica, Sue! Perché non ci raggiunge appena finito il lavoro, signora Solly? Così potrebbe dare qualche buon consiglio a Sue! Oh, grazie! Vorrà dire che porterò del gelato per il giovane vigile! Grazie! A dopo, signora Solly! Ciao! Ciao, Sue! Vieni a giocare a pallavolo con noi! Più tardi, Zinnia! Ora ho bisogno di esercitarmi un po' come vigile! Va bene! A dopo, allora! Ciao, Sue! Vuoi venire a costruire una nave spaziale? Certo, ma non adesso, Zack! Sue, che cosa ne dici di esercitarti come vigile dopo aver fatto un bel bagno in mare? Rimani sempre dove si tocca, Sue! Sì, mamma! E non allontanarti mai da papà! Attenti! Oh, no! Oh, no! Scusa, Sasa! Fermi! No! Scusate! Guarda, papà, un granchio! Oh, che pasticcio! Eh, scusi, signora Zolli! Sono così dispiaciuta, Zack! Non preoccuparti, Zack, lo rifaremo in un minuto! Oh, un altro incidente! Sembra che ci sia bisogno del nostro aiuto! Da dove cominciamo? Prima di tutto il granchio! D'accordo! Inizia tu, allora! La spiaggia è libera! Puoi andare, granchio! Ottimo lavoro, Sue! E ora? Mi piacerebbe aiutare Zack a riparare la sua nave spaziale! Va bene! Intanto io darò un occhio alle pallavoliste! E io andrò ad aiutare la mamma con il picnic! Attenzione a quello che fate, piccole! Cercheremo di non tirare la palla fuori dal campo, signora Zolli! Grazie mille! Cinque, quattro, tre, due, uno, decollo! Continuate! Qualcuno ha appetito? Io sono affamatissimo! Sì, anch'io! Fermo, Zack! Voglio evitare altri incidenti! Via libera! Vai! Aspettateci! Anche noi abbiamo fame! Non correte! Ricordate cos'è successo poco fa? Potete andare! Penso che tu abbia fatto un buon lavoro, Sue! Grazie, signora Zolli! Avete tutti qualcosa da bere e da mangiare? Sì! Aspettate il mio segnale! Via! Mangiate! Sì! Su il fulmine! Scusi, signor Zolli, ma oggi la strada è chiusa al traffico, mi spiace! Lo sappiamo! È il giorno della festa in strada! Abbiamo i tavoli per il cibo e la musica! Oh, d'accordo allora! Il vostro è l'unico veicolo a cui è concesso di entrare oggi, signor Zolli! Grazie mille! Appena avremo scaricato, andremo a parcheggiare nella via accanto! Passate! Basteranno queste sedie, nonno? Controlliamo! Una per bisnonnina, una per me, il nonno, una per la nonna, la mamma, il papà, la mamma di Elsie, il signor Zolli, Elsie, Isaac e poi chi sei tu, Sue? Sì! Ci sono per tutti! Una passata per togliere la polvere e torneranno come nuove! Ottimo! Oh, cos'è? Oh no! Torno subito! Vuoi vedere che la festa è già iniziata? È vero, Pock, sarà una festa fantastica! Ciao, Sue! Ciao, Zach! Ci sarai, vero? Non posso mancare! Ciao, Sue! Ci divertiremo un mondo! Sono pronto! Vado ad avvisare gli altri che la festa sta per cominciare! Sbrigati! Non vorrai perdertela! D'accordo! Nonno, nonno! La festa sta per cominciare! Freno all'entusiasmo, devo prima riparare questa! Dove avrò messo quella stoffa di ricambio a strisce bianche e blu? Non puoi usare qualcos'altro! Non puoi fare un lavoro correttamente se non lo esegui con serietà! Perché non esci e vai a chiamare gli altri della famiglia mentre io riparo questa sedia? Buona idea! Mamma! Dobbiamo andare! Non ho finito con i fiori di carta per i tavoli, Bisù! Rischiamo di perdere la festa! La carta crespa si strappa facilmente, vedi? Devo lavorare con molta cautela! Nonna! Sei pronta per la festa? Non ancora, mi spiace, Sue! Prima devo finire la mia macedonia! A me sembra prontissima! Che cosa manca? Il mio ingrediente segreto! Ad ogni modo non saremo in grado di mangiare proprio nulla se non trovo i coltelli, le forchette e i cucchiai per fare il picnic! Bisnonnina! Sei pronta per la festa, Bisnonnina? Oh no! Devo scegliere il mio ombrellino da sole per la festa! Perché voi adulti ci mettete così tanto a fare le cose? Io sono pronto da tantissimo tempo! Perché sei un fulmine, mia piccola e giovane zebra scalpitante! Fulmine? Sì, significa che sei velocissimo! Scusa, pupà! Gli altri si divertono e noi? Poc! Se solo la mia famiglia fosse veloce come un fulmine come me... Ho un'idea! Li aiuterò! In questo modo prima saranno pronti e prima potremo andare alla festa! Bisnonnina! Io sono Zui il fulmine e il mio scopo è aiutare gli altri ad essere pronti per la festa rapidamente! Oh! E come pensi di farlo Zui il fulmine? Guarda! Zui il fulmine entra in azione! Ecco qua! Il farasole della festa ideale! Oh! Devo dire che non è male, anzi sta bene! Si abbina divinamente con il mio incantevole vestito! Grazie, Zui! Zui il fulmine è venuto ad aiutarti a terminare la macedonia, nonna! Mi fa piacere! Che cosa ne dici di aggiungere un po' di zucchero? Zui il fulmine entra in azione! Veloce come un lampo! Oh, bravo, Zui! Potrei avere anch'io un aiuto da Zui il fulmine? Ecco Zui il fulmine di nuovo in azione! Oh! Coltelli, forchette e cucchiai per il picnic! Fantastico! Non li avrei mai trovati in tempo senza l'aiuto di Zui il fulmine! Io sono Zui il fulmine! Mamma! Dimmi cosa può fare per te Zui il fulmine! Puoi mettere questi fiori nella scatola! Io sono Zui il fulmine! Ecco fatto! Finito! Sei stato un fulmine, Zui! Nonno! Nonno! Come hai già finito! Sei stato velocissimo, Zui! Siete tutti pronti ora? Prontissimi, Zui! Oh, sì, Zui! Sì, Zui, siamo pronti! Possiamo andare! Bene, la festa può cominciare! Avvivo! Sì! Potete servirvi! C'è che non va nella mia macedonia! È salata! Ma come mai? Probabilmente ho messo il sale invece dello zucchero! Dove sono i coltelli e le forchette? Forse avrei dovuto controllare la confezione! Oh, i miei fiori! Si sono tutti rovinati! Il coperchio non si chiudeva! E così ho dovuto schiacciare i fiori un pochino! Aiuto! Sono incollata! Aspetta, la tengo! Ecco il motivo! C'è colla ovunque! Probabilmente ho esagerato con la colla! A quanto pare, Zui, il fulmine è stato un po' troppo fulmineo! Pensavo che aiutandovi nelle vostre cose saremo andati alla festa velocemente! Sono così dispiaciuto! Non essere triste! Metteremo a posto ogni cosa! Con l'aiuto di tutti! Sì! Allora, hai capito, Zui, che un lavoro non può essere fatto correttamente? Se non lo esegui con serietà? Sì, ora l'ho capito! Signor Zui, la festa può continuare, vero? Ma certamente! Musica! Scusate! Abbiamo evitato un altro disastro! Per poco! Salvato elegantemente! Ci è mancato poco! A volte serve essere veloci come un fulmine! Che che hai capito! Non è mancato poco! Si smatre! No è mancato poco! Non è mancato poco! Cosa è la prima cosa! Non è mancato uguale! Non è mancato! Non è mancato poco! Non è mancato più, non è mancato! Grazie a tutti.